...dall'Avicor Stadium di Selvapiana, 26esima giornata di campionato, sfida ad alta quota per i lupi che vanno ad incontrare l'Avezzano. Squadra assolutamente da non sottovalutare con questa giornata oltre 3400. Gli spettatori giunti, questo Gian L'Avicor, per questo match di cartello presente anche la proprietà che può andare al traversone. Uno contro uno con Bonacchi, il doppio passo ancora di De Silvestro con la Mancino sul primo pallone da solo! Esposito. Esposito sicuro. Poco morbido, si alza il pallone e se lo porta via. Grandis è largo, Lombari sulla sinistra, attenzione, il pallone è proprio per lui. Lombari la mette dentro, Lombari, Grandis non ci arriva, viene anticipato, calcio d'angolo. Può arrivare forse il fischio del direttore di gara che arriva adesso, Maldonado. Pallone sulla primo, palo stacca, Di Nardo di testa, pallone fuori. Fuori di pochissimo. Serra. Lombari, alza la testa, Lombari, il pallone arriva a Di Nardo, prova la conclusione. Sì! 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 Antonio Di Nardo! 1-0! È tutto regolare, non c'è fallo, pallone per Tunkara. Tunkara, Tunkara, attenzione, in area di rigore, bella, la pala per De Silvestro e il palo. Il palo dell'Avezzano era tutto regolare, non si è alzata la bandierina, che occasione per l'Avezzano. Con la Mancino, sul primo palo, allontano, occhio, occhio! Roberti. Maldonado. Prova ad andare direttamente in porta. Luis. Adesso ci crede l'Avezzano, che da un po' di minuti ha alzato il ritmo del gioco, Bonacchi. Uh, Tunkara col piattone! Ah! Via, 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 via! Ancora lui, riesce ad arrivarci Grandis con l'esterno verso Coquen. Bello il pallone di Grandis. Coquen si gira, prova a fare tutto da solo. Trova Di Nardo all'interno dell'area, la conclusione di Di Nardo! Pallone fuori. Buono, è buono, palla che resta lì. Coquen si fa vedere sulla mezzaluna. Ancora Coquen, il pallone per lui. Prova a fare tutto da solo, è di spalle però ha bisogno di un sostegno e lo trova in Parisi. Parisi, ancora Parisi, prova il mancino Parisi! Brusca ci mette i guantoni. Primo palo, stacca, non c'è nessuno, Maldonado. Uh, la botta di Maldonado di prima! Adesso è l'Avezzano a ripartire, pallone in aria per Tunkara. Occhio Tunkara, esposito! Centrale, sicuro. Può provare, ah! Può provare la conclusione, è fermato. Riparte, attenzione al contropiede dell'Avezzano. Tunkara e Roberti da solo tra le linee. Attenzione, Tunkara e il pallone per lui! Sei! Sei! Bonacchi! Ancora in avanti, l'Avezzano. Buona la partita dei Marsicani, pallone in aria. Gonzale, socchio! Non lo fate tirare! Non lo fate tirare, pallone fuori. Occhio, la conclusione! Uh, ragazzi, l'ho vista dentro, brivido. Stando così le cose si porterebbero a meno due. Di Nardo, per Abonchile, lungo è dal pallone. La tiene comunque, ma di... Pacillo. Pacillo. Vai, Danny! Vai, Danny, la palle per Di Nardo. Di Nardo! Sì! 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 Di Nardo! La doppietta di Di Nardo! Occhio, Persichini. Ancora Persichini. Prova la conclusione, Persichini. La conclusione. Il tocco, ma... Oh, Tunkara! Via! Calcio d'angolo. Sì! Non c'è più tempo! Non c'è più tempo! Finisce qui! Il campo basso vince! 2-1 e conquista altri tre punti fondamentali. Non c'è più tempo! 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 Grazie a tutti.